Le promozioni dei conti deposito che vediamo ogni giorno in tv, sui social o su youtube sono veramente delle promozioni vere che ci fanno guadagnare o sono soltanto degli specchi per le allodule che quindi vogliono solo attirare i clienti? Quest'oggi faremo un po' di chiarezza e analizzeremo alcune promo che ho visto nelle varie pubblicità per capire se effettivamente convengono o se appunto sono solo per attirare la clientela. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e in questo canale parliamo di finanza personale, di investimenti e di cripto. Se siete interessati a questi argomenti vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video ed eventualmente potete anche lasciarmi un commento per richiedere qualche video in particolare che realizzo sempre con molto piacere. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo subito a parlare dell'argomento di oggi. Per chi non lo sapesse i conti deposito sono una sezione di un conto corrente all'interno del quale si possono depositare i propri soldi. Poi possiamo scegliere se lasciarli vincolati o non vincolati. Ovviamente quelli vincolati non possiamo muoverli per un tot di tempo che andiamo a decidere prima o se poi li vogliamo muovere avremo delle penali, ovviamente non delle multe, ma magari una riduzione degli interessi o un azzeramento di questi ultimi. Però può capitare con una delle emergenze ma tra poco lo vediamo. In alternativa abbiamo quelli svincolabili, quindi i nostri soldi sono sempre liberi, li possiamo prelevare quando vogliamo. L'unico problema è che ovviamente essendo svincolabili, che quindi danno a noi una facoltà in più, vanno a ridurre quello che è il nostro guadagno. Ultimamente si parla molto di conti deposito per il motivo che sono aumentati i tassi di interesse in seguito all'inflazione che c'è stata e i tassi di interesse permettono alle banche di dare anche dei tassi favorevoli rispetto a quelli che sono i loro clienti e fornire quindi dei conti deposito che sono interessanti. L'idea di questo video nasce perché ho visto ultimamente tantissime pubblicità di banche che pubblicizzano i loro conti deposito in particolare ho visto mi pare ieri sera quella di ENG con un comico, adesso non mi ricordo come si chiami, che vabbè è un po' trash possiamo dire e promuovono questo 3% anno che dico beh è interessante, ovviamente ci sono alternative migliori sul mercato che tra poco vedremo però in generale dico per essere una banca che ha comunque anche le filiali è facile perché per una digital bank che può essere non lo so i limiti, i body bank eccetera è più facile offrire dei tassi più alti visto che hanno costi inferiori. Però per banche molto grandi che hanno le varie filiali che quindi hanno dei costi più ampi di dipendenti o anche delle strutture è difficile offrire tali rendimenti e quindi volevo capire come fanno. Quindi ecco sono andato a capirlo e la risposta che vi darò non è molto bella però andiamo avanti e quindi analizziamo questi conti uno alla volta. Dimenticavo una piccola cosa sul discorso di prima, per quanto riguarda i conti vincolati e svincolati come vi dicevo quelli svincolabili hanno un costo o meglio un rendimento molto più basso per noi mentre quelli vincolati hanno un rendimento più alto. Questo perché ovviamente se noi lasciamo i soldi alla banca, la banca sa che li avrà per tot tempo, quindi per esempio per 5 anni quindi può operare, fare i suoi movimenti, può prestarli ad altre persone e andare a generare del margine su quei soldi. Se invece sono svincolabili sa che li deve tenere liquidi o comunque deve avere un margine di liquidità molto più alto rispetto a quelli vincolati quindi andrà a generare meno guadagni, meno commissioni eccetera eccetera. Questo in realtà non ci interessa neanche troppo ma la cosa importante è che noi prima di iniziare l'investimento decidiamo e stabiliamo cosa vogliamo fare dei nostri soldi. Quindi per esempio se avessimo 10.000 euro che ci avanzano e nei prossimi anni non abbiamo alcuna spesa da fare e abbiamo già un fondo emergenza da parte che ovviamente varia da persona a persona mediamente all'interno dei vari canali youtube o anche dei forum che parlano di finanza si sostiene che la dimensione del fondo di emergenza debba essere almeno pari a 6 mensilità quindi quanto noi spendiamo ogni mese è moltiplicato per 6 mediamente una persona spenderà penso 1.000 euro per vivere tra affitto, spese e cose del genere io precisamente non lo so perché sono ancora uno studente quindi non lavoro, non ho spese e per ora non posso darvi quelli che sono dei dati precisi però si stima che siano sul miliardo di euro al mese ovviamente se uno vive a Milano non è mai sostenibile ma se uno vive in un paesino sperduto, fa il dipendente, pagherà poco di affitto pagherà la spesa abbastanza poco si spera e quindi mediamente potrebbe avere anche un costo inferiore ai 1.000 però ecco tornando a noi senza dilungarci troppo queste sono le spese che deve avere una persona e tutto questo discorso lo sto facendo perché se voi volete investire o volete provare un conto deposito dovete secondo me assicurarvi, ovviamente se volete farlo vincolato di avere un fondo emergenza perché se dovesse succedere un domani un'emergenza che avete un danno alla macchina o perdete il lavoro o non lo so quale cosa può succedere ma bisogna considerare tutti gli scenari possibili ovviamente quando si investe bisogna farlo con cognizione di causa e quindi noi ci mettiamo da parte il nostro fondo di emergenza poi una volta che lo abbiamo messo da parte possiamo pensare di investire quindi tornando a noi se qualcuno ha tot soldi che gli avanzano non sa come investirli, vuole magari diversificare e se vuole investire a basso rischio il conto deposito può essere un'opzione interessante perché vi fornisce un rendimento che in questo momento secondo me è abbastanza appetibile a fronte di un rischio che è basso perché se ci pensiamo c'è sempre il fondo di tutela interbancario che garantisce i depositi fino a 100.000 euro quindi anche in caso di fallimento della banca in cui abbiamo depositato i soldi questi ci verranno ridati indietro molto probabilmente gli interessi, quelli che si erano generati e tutto il resto non ci torneranno indietro però l'importante è avere il nostro capitale almeno e quindi questo ci dà una sicurezza in più se investissimo in obbligazioni della Eni come vi parlavo in due video fa o in azioni della Apple i rischi sono altissimi Apple può fallire domani mattina, Eni può fallire domani mattina se fallisce Apple abbiamo delle azioni non rivedremo mai e poi mai un euro o se li vediamo saranno una bassissima percentuale rispetto all'oro di azioni quindi ipotizzando un valore di azioni di 120 magari vediamo 3 euro indietro, 10 euro indietro proprio esagerando quindi capite che la perdita è grandissima per quanto riguarda le obbligazioni in caso del fallimento dell'azienda di cui le abbiamo comprate potremmo avere un rimborso un pochino più alto comunque le obbligazioni sono più sicure rispetto alle azioni ma comunque sono meno sicure rispetto a un conto deposito quindi ovviamente quando uno va a investire deve valutare tutte queste cose quindi prima di investire in un conto deposito vincolato è meglio assicurarsi di avere dei fondi appunto da utilizzare per gli imprevisti e non rimanere senza soldi e dover prelevare i soldi dal conto deposito vincolato e quindi perdere tutti gli interessi e appunto abbiamo fatto un investimento inutile adesso però andiamo a vedere il motivo di questo video analizziamo 2-3 conti deposito che ho trovato online e vediamo se effettivamente danno quello che promettono partiamo subito dal conto ING di cui vi parlavo già prima che fa una pubblicità incredibile su questo 3% di guadagno annuo lordo che poi basta andare alla riga dopo per vedere che è sui primi 3 mesi sui primi 3 mesi è una cosa devastante vuol dire che il guadagno è semplicemente vediamo subito 3% diviso 4 è uno 0,75% sul quale dobbiamo anche calcolare le imposte quindi uno 0,5% praticamente sui primi 3 mesi che non è neanche male perché il rendimento anno per fare un confronto dovrebbe essere più o meno sul 2,10% 12% in realtà lo 0,55% non è malaccio sui primi 3 mesi perché se lo guardiamo su orizzonte anno sarebbe più o meno 2,22% che non è male direi dal netto delle tasse però andrebbe calcolata anche l'imposta di bolle questa me la sono già persa basiamoci su questi calcoli veloci che abbiamo fatto e come vi dicevo il 3% sui primi 3 mesi poi se andiamo giù a vedere guardate un po' interesse allo 0,5% anno lordo che è veramente bassissimo quindi pubblicizzano tantissimo questo 3% sui primi 3 mesi ma poi il resto è dello 0,5% cioè non vi sto neanche a fare i calcoli perché non ne vale la pena è veramente pochissimo se noi investissimo 10.000 euro ci ritroviamo un capitale di 50 euro dopo un anno come guadagno poi vabbè se abbiamo questo piccolo bonus quindi i 50 euro saranno 70, 80 non lo so adesso proprio un calcolo spannometrico appena fatto però veramente un guadagno bassissimo cioè su 10.000 euro guadagno in un anno di 50 euro e quindi vabbè direi che il conto ING lo possiamo anche scartare perché per guadagnare lo 0,5% anno a sto punto forse è meglio tenere soldi sotto il materasso può tornare utile magari a chi è già un loro cliente banca Mediolanum che ho visto pubblicità anche qui 4% sui primi 6 mesi poi dopo non si riesce a capire quanto sia non si riesce a capire quanto sia qua c'è scritto che è solo per i clienti c'è un vincolo minimo abbiamo tutte le condizioni ma da lì in poi non sappiamo nemmeno di quant'è qui non possiamo nemmeno fare delle simulazioni su un possibile conto vincolato su un conto svincolato quindi il 4% sì non si può dire niente buono ovviamente sarà lordo quindi parliamo di un poco più del 3% anzi facciamo il calcolo dovrebbe essere 2,96 se non ricordo male 2,96 che secondo me è un tasso di tutto rispetto comunque il problema è che lo abbiamo sui primi 6 mesi quindi dobbiamo già dimezzarlo quindi abbiamo un 2% lordo e poi non sappiamo cosa succede dopo quindi non può essere un investimento lungo periodo quindi per chi può tornare utile questo? secondo me per chi magari ha un surplus in questo momento magari ha dei soldi in più che sa che verranno spesi tra un anno e tra un anno non so comprerà la macchina o la casa o non so cosa può comprare quindi cosa fa? li mette in questo conto almeno gli permettono di ottenere un piccolo guadagno con un rischio direi relativamente basso e poi si può prelevare e fare le sue spese e questo secondo me è un investimento che può avere senso però per chi investe magari con un orizzonte un po' più lungo magari già di 2, 3, 4 anni capite che investiamo su un 4% lordo a 6 mesi e poi non sappiamo magari è scritto da qualche parte però non lo so mi sfugge ho provato a guardare su tutto il sito prodotti e servizi anche qui non c'è quasi nulla abbiamo guardato investimenti ma si riferisce solo a fondi e cose varie che vendono per generare commissioni ma per il resto non si sa quasi nulla poi vabbè vi dicono quanto costano i conti grazie a dio ma niente di più quindi anche qui una pubblicità del 4% sicuramente buono sicuramente interessante per chi magari ha possibilità di investire per il breve periodo perché gli serviranno poi i soldi ma non ci dice tanto altro BBVA leggermente migliore praticamente siamo partiti da ING che era 3 mesi poi abbiamo visto Mediolanum che era 6 qui su BBVA abbiamo un 2% a 12 mesi che quindi è lo stesso che guadagneremo a lasciare i soldi sul Mediolanum per 6 mesi perché è esattamente il doppio però qui ce lo porta per tutto l'anno che a sto punto tanto vale lasciarli per 6 mesi sulla banca Mediolanum però almeno loro ci dicono che è 12% per i primi 12 mesi poi è flessibile quindi possiamo prelevare quando vogliamo e vabbè ci rimane un 1% se preleviamo quindi flessibile ma un po' particolare possiamo dire e qui ci dice vabbè altre cose poi le informazioni ce le dà sul conto trovare informazioni sul conto deposito delle varie banche ho notato che è quasi una missione impossibile perché veramente ho fatto una fatica incredibile e qui abbiamo qualche informazione in più se non sbaglio ci permette sì di vedere quanto sarebbe guadagno un semplice simulatore che però si ferma a 12 mesi il calcolino ce lo potevamo fare anche da soli qui ci fa vedere le tasse che baghiamo 26 sul capital gain e poi 10 dell'imposta di bollo semplicissimo guadagniamo 64 euro in un anno e come vi dicevo prima se investissimo in Mediolanum ne guadagniamo uguali e direi che sono due banche con una sicurezza che è paragonabile abbiamo infine i limiti di cui vi ho parlato già anche l'altra volta quando parlavamo dei conti deposito rispetto alle obbligazioni ENI e questa è una banca che ci fa capire quanto possiamo guadagnare ci dice ovviamente che c'è un limite alla promozione ma almeno ce lo dice che guadagneremo il 4% per 5 anni e ci dice già qual è il netto poi vabbè in realtà manca l'imposta di bollo su questi 10.000 euro però fa niente netto quasi del tutto e ci fa vedere direi che possiamo vincolarlo anche a 5 anni bloccato ma anche svincolabile che poi va a ridurre leggermente il guadagno ma è comunque un 3% o 2,22% di netto che è comunque buono perché sono 1.100 euro in 5 anni se facciamo un paragone con prima sono 37 euro perché è più basso rispetto alla banca BBVA quindi a questo punto converrebbe quella e invece se lo mettiamo vincolato anche qui rimane basso a 9,15 il limite secondo me può convenire per chi è interessato a fare le depositi a lungo termine infatti arriviamo al 4% ogni anno e quindi vi fa guadagnare in questo caso 555 euro che sono già netti poi vi aveva tolta l'imposta di bollo quindi si ridurranno magari altri 50 euro però sono 500 euro e la cosa bella è che almeno ci dà la possibilità di capire quanto guadagniamo in realtà non sarebbe neanche necessario avere tutti questi strumenti che li possiamo definire già avanzati ma almeno sapere quanto guadagniamo per ogni anno infatti le altre banche non le ho trovate molto molto trasparenti in conclusione quindi direi che alcune banche non sono troppo trasparenti che tutte le promozioni che vediamo durano pochissimi mesi alcune 3 alcune 6 alcune 12 e poi basta ovviamente la cosa ideale per ognuno in base alle proprie esigenze è andare a valutare quello che è l'orizzonte temporale e poi quindi fare il proprio investimento c'è chi può avere bisogno dei soldi tra un anno e quindi può fare un investimento magari di 6 mesi 9 mesi al massimo e chi invece per 5 anni sa già che non avrà bisogno di niente e può permettersi di fare un conto deposito a 5 anni quindi in questo caso ognuno valuterà cosa fare però ecco ho fatto questo video perché ci tenevo a fare un po' di chiarezza su quelli che sono i guadagni che offrono i conti dato che non sono così chiari come sembra dato che appunto vediamo un 3% che poi alla fine si traduce in uno 0,55% più lo 0,5% anno che alla fine è praticamente uno 0,7 anno che è il peggiore che abbiamo visto oggi quindi io vi ringrazio per aver visto il video fin qui spero che vi sia stato utile soprattutto che vi abbia dato nuovi spunti o magari interesse per guardare qualche banca o soprattutto per leggere bene quelle che sono le informative che vengono date fatemi sapere voi se utilizzate un conto deposito se avete intenzione di utilizzarlo e soprattutto che banche conoscete magari ce ne sono altre che offrono dei conti deposito con degli interessi buoni che non conosco quindi fatemele sapere nei commenti se le conoscete e niente noi ci vediamo al prossimo video statemi bene let's go ciao 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 Grazie a tutti.